Senti, io ti devo consegnare un premio che tu ne hai già a casa tantissimi, però questo è speciale perché è un nuovo Telegatto, un'opera d'arte di Cracking Art, è il Telegatto della contemporaneità, è tutto green, tutto come sono ora le regole, e te lo consegno, ti consegno proprio il Telegatto, eccolo qua, sono veramente orgoglioso e fiero, per noi è un onore, sei il primo Telegatto che consegniamo di questa nuova vita del Telegatto e non potevamo che consegnarlo a te, questo lo ti dici perché sei il numero uno, non solo della musica ma della contemporaneità, perché tu sei la contemporaneità nella musica e nell'arte, quindi grazie mille e un bocca al Grazie.